Alla macelleria le carni preggiate ogni giorno vivi una nuova esperienza culinaria, solo da noi puoi scegliere come deliziare il tuo palato con una varietà di prodotti che va dai tagli freschi ai preparati più stuzzicanti. Ogni pasto è una gustosa novità. Alla macelleria le carni preggiate la tradizione incontra l'innovazione per soddisfare tutti i gusti con una sola costante, la genuinità dei prodotti. Le carni selezionatissime sono tutte dotate di certificato di tracciabilità perché il nostro segno distintivo è l'alta qualità. Tutto qui è frutto di un lavoro quotidiano fatto con passione, dal personale che ti accoglie a quello del nostro laboratorio, pronto a soddisfare ogni richiesta per la clientela più esigente. Macelleria le carni preggiate, la cultura del mangiarsano.